un insieme di incontri che noi faremo nelle date e nei giorni insomma nelle date che già hai ricevuto con i titoli che già hai ricevuto e la nostra ambizione sarebbe, questo lo dico a tutti, di sciorinare gli aspetti sia teorici che teorico-clinici che hanno a che fare o che vanno sotto il nome di approccio sistemico, di terapia sistemica o di terapia relazionale. Questa è un po' la nostra ambizione. L'approccio sistemico relazionale e il nostro istituto, che così si chiama, che io lascio perdere questo, questa è la sede, no, non tutta, attenzione, altrimenti sarebbe un ministero più che una sede. In questo bel edificio della zona che sta, per chi conosce Roma, tra Piazza Quadrata, Piazza Buenos Aires e Piazza Ungheria, quindi nel quartiere dei Parioli, via Lovagno, c'è proprio il nostro istituto. Ora, io vi faccio, vado molto rapido perché mi sono accorto che ho tantissime cose da dire e poco tempo. Quindi direi, questo è il nostro staff attuale dei didatti, dei docenti, che sono attivi nel nostro istituto, cose che naturalmente avrete anche assolutamente la possibilità di andare a vedere negli indirizzi web e che poi dopo vi darò. Questo è l'elenco dei didatti junior che affiancano i didatti, alcuni didatti. Questa è Antonella che è in realtà la segretaria, è la segretaria, dire poco. Antonella è la regina dell'istituto perché è quella che tiene le fie dell'aspetto organizzativo, dell'aspetto amministrativo, dell'aspetto legato al rapporto con gli allievi, insomma un po' tutto. Allora, IEFCOS nasce quasi 30 anni fa con alcuni temi abbastanza specifici che qui vedete elencati per difetto, diciamo. La tradizione clinica e di teoria della clinica di IEFCOS ha delle fonti che sono la terapia familiare strategica di cui facciamo carico a Jay Haley, la terapia familiare strutturale a Salvador Minucin, la terapia narrativa e costruttiva di estera terapia controparadossale. Questo detto così per ora a molti di voi può essere familiare, a molti un po' meno, ma insomma sono approcci differenti di declinazione della clinica della terapia sistemica. Come vedete la terapia familiare è molto ripetuta, familiare e famiglia come sistema, come diciamo. Qui c'è da dire la IEFCOS, Istituto Europeo di Formazione e Consulanza Sistemica, europeo perché? Perché abbiamo una vocazione associativa, la prima sigla è la Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, quindi è la grande associazione dei terapeuti sistemici italiani, la seconda è quella europea, noi partecipiamo al coordinamento delle scuole di psicoterapia e in più partecipiamo fortemente ad una cosa che qui non c'è, che è la rete Relates, che è una rete di terapeuti sistemici di lingua spagnola. Qui ho messo un po' di nomi di persone che sono collegate, sono state alcune volte purtroppo, perché nel caso di Moni e di Salmenucin purtroppo sono persone che ora non ci sono più, sono persone collegate con noi, che fanno parte della nostra storia. Questo lo lasciamo perdere. Le caratteristiche salienti della nostra offerta formativa sono queste che vedete, effettivamente non so chi è che lo diceva, forse qualcuna di voi diceva, tutte le volte che si sente parlare di approccio sistemico lo si prende da un punto di vista nuovo, differente, effettivamente la nostra formazione, è una formazione open-minded. Noi pensiamo che gli allievi che vengono passano attraverso una fase che noi chiamiamo destrutturazione, non demolitiva, ma mettendo a fuoco quali sono le competenze e le conoscenze che ciascuno ha in questo settore della psicoterapia in generale, dell'approccio clinico, per arrivare poi nella seconda parte della formazione, è una ristrutturazione. La nostra offerta formativa è, come si dice qui, attenta alla persona dell'allievo. Perché? Perché fin dal primo anno noi pensiamo di poter mettere alla prova un po' gli allievi attraverso il genogramma familiare, la storia della propria famiglia d'origine, senza pretesa di terapia, perché non ci sarebbero le condizioni, né ci sarebbero le ragioni per fare questo, ma insomma chi può o vuole lavorare con le famiglie è interessante che si immerga nella propria famiglia d'origine, una cosa che si fa nei piccoli gruppi e ha luogo nel primo anno. Il primo anno lascia il posto al secondo e al primo anno, che sono in linea di massima clinici. Questo è una formazione che si basa moltissimo sulla supervisione cosiddetta diretta. Tutti voi avete a conoscenza l'esistenza dello specchio, unidirezionale, del team riflessivo dietro, del supervisore, del terapeuta che di volta in volta è uno degli allievi del gruppo. Poi c'è anche il quaderneta, cioè quello che prende gli appunti. Se voi preferite terapista diventerà quadernista, ma insomma questo è un dettaglio. Fa parte di questa nostra offerta formativa il tirocinio che si fa per tutte le scuole di formazione in condizioni particolari. Poi c'è la supervisione in forma indiretta, e cioè nell'ultima parte del training non si vanno più a vedere i casi diretti, ma i casi che vengono riportati dagli allievi in gruppi in cui si discute soprattutto strategia da una parte e dall'altra il problema delle emozioni del terapeuta, dell'operatore, che sono i due punti di forza della supervisione in forma indiretta. Durante tutto quattro anni, questi quattro anni sono anche accompagnati, oltre che dal tirocinio, oltre che dai gruppi di training, anche da aspetti teorici che si inamellano in lezioni, seminari, workshop e convegni. Workshop e stage sono soprattutto quando noi chiamiamo degli stranieri, proprio per ritornare sull'aedi europeo della sigla IEF. Allora, i gruppi di training, sette, otto, nove persone al massimo, si incontrano una volta a settimana per cinque ore il primo anno e per sei ore il secondo anno. Cinque ore con lo stesso didatta e allievo didatta, a caso mai un giorno a settimana, un pomeriggio a settimana, per evitare di incrociare problemi di tipo lavorativo. Nel secondo anno c'è un passaggio abbastanza imponente, per cui i didatti di riferimento sono quello che o quella che ha condotto il primo anno e un altro o un'altra che si aggiunge perché le sei ore obbligatorie da programmi ministeriali vengono divise in due, sempre lo stesso giorno, in due parti, tre ore con il didatta A, che è quello del primo anno, tre ore con il didatta B. Sono due anni che si passano così. Infine, passando poi al quarto anno, in cui si cambia ulteriormente didatta di riferimento. Ora, questo mi permette di dire che la nostra scuola tiene molto all'idea che ogni allievo apprenda le diversità dei didatti che incontra, che sono non tanto le diversità di tipo teorico, di approccio, quanto le diversità degli stili personali, e soprattutto nelle terapie questo. Quando si fanno le terapie con lo specchio unidirezionale, le terapie sono differenti, se ci sto dietro lo specchio io, se c'è dietro lo specchio massimo, o qualcun altro, perché evidentemente ognuno di noi ha sviluppato uno stile personale e delle quattro tappe della formazione. Sapere, e quindi la parte teorica, questo è chiaro, si può fare pure sui libri, ma si fa sui libri, sulle lezioni, sui seminari, sui workshop. Sapere. Sapere essere è una dimensione che viene arricchita, saper fare, scusate, è una dimensione che viene arricchita soprattutto nei due anni centrali, lì dove gli allievi vengono aiutati ad avere consapevolezza di poter fare delle cose con i pazienti individuali, di coppia. Strano che non avete fatto nessuna domanda sulle terapie di coppia, che normalmente vengono molto oggettonate, ma insomma... Quindi nel campo del saper fare, che è il secondo punto, si apprende su come stare in seduta, su come stare in seduta, su come lavorare tecnicamente con i pazienti. Il terzo livello è il saper essere, che corrisponde alla dimensione di elaborazione di tutto quello che è da sapere e da saper fare, diventando qualche cosa di soggettivo e personale. quindi terapeuta sistemico Morizio Coletti diverso dal terapeuta sistemico Massimo Pelli o dal terapeuta sistemico Gian Paolo Boccio, dal terapeuta sistemico Massimiliano Lecci, così ho rimembrato tutti e quattro i conduttori di questa lunga avventura. Il punto del saper essere è un punto che richiede l'esperienza clinica continuata. Poi c'è il quarto punto, che è il saper essere differenti, perché se io sono in una certa maniera, devo sapermi adeguare, quindi saper essere differente, alle necessità, alle esigenze, ai clienti, ai bisogni dell'utente o del cliente. Sapere, saper fare, saper essere, saper essere differenti. Evidentemente il training si muove soprattutto sui primi due obiettivi, ed è già tanto, e accompagna gli allievi al terzo punto che è il saper essere, soprattutto all'ultimo anno. Il saper essere, cioè acquisire, perché è una trasformazione personale. Allora, questo è trasversale a tutti gli anni. Si comincia dal primo giorno e si finisce con l'ultimo e continua ad andare avanti per tutta la nostra vita professionale. Non si finisce mai. Quindi è una trasformazione continua. Ma è la consapevolezza delle proprie reazioni, come diceva Maurizio all'inizio del nostro incontro di stasera. Conosce le proprie risonanze, le proprie reazioni emozionali, le premesse che abbiamo imparato che ci guidano nello stare con gli altri, nello stare nel mondo. Questo è un processo di cambiamento che comincia e non finisce mai. Ed è trasversale. Come è trasversale in tutte le forme di psicoterapia? Perché in tutte le forme di psicoterapia questo percorso, sapere, saper fare, sa per essere, dovrebbe essere alla base della formazione. Almeno speriamo che sia così. Nel nostro lo è. Questo è il nostro sito, credo che voi lo conosciate. Trovate sempre aggiornato, trovate tutte le attività nostre. È un sito classico, un sito web. In cui nelle diverse pagine o sottopagine ci sono diverse cose, ci sono anche una parte dedicata solo agli allievi, dove si possono avere materiali a loro dedicati. E poi ci sono tutte le attività, le iniziative che noi facciamo. Ecco, è qui. Questo è il nostro profilo Facebook, che è come tutti i profili più movimentato, perché è più facile anche da mettere a regime. l'Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica è il profilo Facebook. Ed infine c'è il canale YouTube, dove noi presentiamo completamente gratuitamente una serie di filmati, interviste, presentazioni, parti di convegni che hanno la sigla IEFCOS. Su questo voi potete andare a curiosare per cercare di capire cosa vogliamo fare o cosa facciamo o cosa faremo. Questo è il nostro corso. A partire da oggi, poi si sarà il 5 maggio con Massimo. Vedete qui, docente, argomento e titolo. Il titolo è evocativo, evidentemente. L'argomento è più tecnico. E' il mio dovere presentarvi questo corso dicendo che intanto questa giornata, questo primo incontro è completamente gratuito, essendo invece gli altri 8, perché sono 9 in tutto, al costo di 80 euro tutti. Quindi è abbastanza abbordabile. Chi vuole potrà da domani iscriversi al corso nella sua completezza, nella sua interezza, pagando 80 euro attraverso una mail e le istruzioni che ne seguiranno dalla regina di IEFCOS, da Antonella. Oltre agli aspetti di tipo teorico-clinico, che cosa dà questo corso in più? Per chi, come alcuni di voi, sta pensando di, perché no, fare una formazione, una specializzazione. e IEFCOS magari è tra scuole candidate, IEFCOS che è una sede riconosciuta per la formazione alla psicoterapia. Bene, la partecipazione a questo corso dà intanto una priorità assoluta a chi lo ha frequentato per essere successivamente ammessi al corso, che inizierà il prossimo corso a gennaio del 2022. Poi una partecipazione ai due workshop che sono previsti. Avete capito che ci sono questi workshop che sono iniziative con dei soggetti abbastanza rinomati, colleghi esperti, che per ora lo si fa via online per i notti motivi. La partecipazione per voi a questi corsi ha un costo uguale a quello dei nostri allievi, che è ridotto rispetto agli esterni. Noi ne abbiamo due nel prossimo futuro. L'8 maggio, cioè tra poche settimane, Michele Zappella verrà a parlarci della sua idea di come la diagnosi può essere un fattore escludente quando si parla di bambini. Michele Zappella, che credo che tutti voi conoscete per nome, perlomeno, insomma, è un neuropsichiatra infantile che ha praticamente lavorato nella sua vita professionale tantissimo con le istituzioni dello spettro autistico, con i bambini, poi ha lavorato soprattutto con i bambini, e ci fa questo workshop l'8 di maggio. Anche questo troverete sul sito. Tenete conto che se voleste partecipare potete farlo al costo dei nostri allievi. Non mi ricordo quale, ma insomma, poi Antonella, sempre la solita, la insostituibile Antonella lo dirà. Infine, abbiamo il 9 di ottobre Tagliavini, che è uno psichiatra che si occupa soprattutto dei disturbi dell'apprendimento. voi siete qui oggi in 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Noi pensiamo di introdurre in questo corso l'idea che se ci sono dei soggetti che volessero partecipare e magari oggi non hanno fatto a tempo o c'è stato qualche tipo di difficoltà, lo possono fare successivamente aggiungendosi a voi e poi recuperando le giornate che sono state che sono già passate attraverso un accesso, come si dice, asincrono, cioè diamo un link e si va a vedere poi quello che si è detto, quello che si è discusso. Allora, per ora ho parlato soprattutto dell'aspetto della formazione. Vi ricordo che l'ultimo dei nostri incontri, che speriamo vivamente sarà il momento di farlo in diretta, cioè in forma presenziale, sarà una divertente simulazione di una terapia in cui uno o una di voi farà, due di voi faranno da pazienti, una farà da terapeuta e quindi vedrete un po' che cosa significa la discesa in campo direttamente in questa condizione. Allora, dunque, iniziamo un po' a parlare delle generali, delle questioni generali, perché appunto mi interessa quello che diceva Luisa, perché dice sono rimasti incuriositi da quest'idea, l'approccio sistemico. Angela, nella sua presentazione, all'inizio ha detto che curioso, anzi, che bello, che interessante che è, l'approccio sistemico, quanto più se ne parla, tanto più se ne scoprono le sfaccettature. E allora cominciamo dal nome. Sistemico è perché intanto viene dalla teoria dei sistemi umani, che è una teoria molto complessa e che qui non sto assolutamente a ripetere e a ribadire, ma che è che ha avuto il suo ingresso in questo campo in un momento particolare, storico, e cioè è in un momento in cui ottica sistemica e terapia familiare nascono per migliorare o arricchire quello che Jay Haley chiamava l'individuo delimitato dalla sua propria pelle e cioè un individuo che è isolato dal contesto circostante. In questo senso nasce così e nasce a metà degli anni sessanta in linea di massia, poi naturalmente possiamo pensare che c'erano dei prodromi dei preliminari prima e farò a questo punto due connessioni abbastanza differenti. Nasce intanto negli Stati Uniti, lì dove la psichiatria era ed è ritornata ad essere diciamo dominata dalle cliniche psichiatriche e dall'approccio psicofarmacologico a quei tempi se qualcuno ha visto, se qualcuno si ricorda perché l'abbiamo visto tutti, qualcuno c'erano anche gli elettroshock la ESC l'elettroshock terapia quindi a quei tempi la psichiatria era quella la neuropsichiatria infantile era centrata negli Stati Uniti d'America su una dimensione di bambino simile insomma un piccolo paziente psichiatrico paziente psichiatrico in miniatura quindi con le stesse questioni collegate con gli psicofarmaci la stessa questione collegata con l'internavizzazione dei bambini cosiddetti pazienti neuropsichiatrici infantili allora in questo quadro psichiatria e neuropsichiatria infantile collegato con l'approccio dei servizi sociali che quello che conosciamo irrompe una 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 questione un paradigma diverso cioè l'idea anzi più paradigmi diversi intanto l'idea della famiglia appunto eh eh Salvador Menucin che è stato un monumento al nostro campo diceva non c'è un bambino che possa essere visto senza il supporto il sostegno la lettura l'incoinvolgimento della sua famiglia quindi l'idea per cui queste famiglie iniziano a colloquiare o a scontrarsi con l'istituzione psichiatrica americana le madri schizofrenogeniche di Frida Flor Reichmann che vanno a vedere le cose che succedono con i propri figli internati in ospedali psichiatrici le famiglie dei bambini che vanno nella rete della neuropsiciatria infantile quindi c'è una questione meramente clinica che gli operatori non riescono più a tenere conto solo del soggetto dell'individuo perché questa dimensione della famiglia è lì presente quindi è ben salda non solo ma a partire da questi metà degli anni sessanta e negli Stati Uniti sorge un altro paradigma che è il paradigma comunicazionalista cioè la teoria e pragmatica della comunicazione umana è l'idea che per comprendere bene cosa succede tra le persone bisogna capire cosa succede nella comunicazione noi si spenderemo del tempo soprattutto nei prossimi incontri per parlare di questo la teoria della comunicazione umana o la pragmatica della comunicazione umana svolgono un ruolo predominante su questo e poi le idee di contesto su cui Massimo la prossima volta se avrete pazienza vi parlerà l'idea del contesto cioè di quello che c'è intorno alla persona o alle persone e le relazioni e su questo piano io ricorderò solo alcuni dei grandi nomi del settore che vanno da Gregory Bateson a Dan Jackson Paul Vazlavic appunto Virginia Satir Milton Erickson che era addirittura un un ipnotista che però ha dato una grande impronta a questo campo quindi una ricerca di una clinica differente non basata né sugli psicofarmaci né sulla ehm sul l'internamento diciamo in clinica mh e e che vada ad essere un un elemento nuovo rispetto all'approccio tradizionale della psicoanalisi o della terapia cognitivo comportamentale inclusione della famiglia inclusione della comunicazione con l'inclusione del contesto questi sono i grandi le grandi incursioni in questo settore metà degli anni sessanta ma a metà degli anni sessanta anche in Italia c'è molto fermento secondo metà degli anni sessanta e i primi anni settanta sono caratterizzati la parte caratterizzati dalla nascere nel nostro centro studi e poi successivamente di EFCOS che non è una cosa è una cosa un po' personale ma insomma i primi anni settanta sono caratterizzati dal culme dall'acme della grande riforma antimanicomiale che porta il nome di Franco Basaglia e che considera ha considerato gli istituti chiusi quindi i manicomi gli istituti psichiatrici di qualsiasi genere dei luoghi dove non c'è cura come diceva Basaglia dove non c'è cura e quindi vanno chiusi e tant'è che insomma la legge che porta il suo nome ha progressivamente portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici occorreva e occorre trovare delle alternative che sono certamente delle alternative organizzative di tipo territoriale quindi centri di salute mentale o a seconda della regione centri di igiene mentale o comunque comunque si chiamino ma anche un cambiamento nel campo delle delle della clinica degli interventi che come vi ho detto risentono della della tradizione americana e che quindi tra le altre cose si interessano di sistemi famiglie e genericamente parlando di appunto di approccio psicoterapeutico a questo livello io farò solo brevissimo riferimento ad una serie di cose che poi i miei colleghi Massimo Pelli Gianpaolo Bocci e Massimiliano Lecci poi riporteranno nelle giornate che 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 cambiano una serie di paradigmi veramente 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 imponente in quel periodo e cioè il processo lineare è sostituito dall'ipotesi circolare che perché è di Roma è il il tram che era il tram adesso si chiama 3 o 18 a seconda cioè l'idea che A non produce B che potrebbe essere una cosa banale già conosciuta ma è tuttavia è la base della teoria della complessità non c'è più l'idea di un causa effetto ma l'effetto produce la causa e che produce l'effetto che produce la causa che produce l'effetto in forma diciamo completamente circolare l'altro grande cambiamento che avviene storicamente e da qui appunto viene il nome che si è voluto dare a questo questo incontro la storia siamo noi dall'individuo dal dal focus sull'individuo all'apertura che include l'individuo e il sistema di cui questo individuo fa parte il sistema di riferimento poi vedremo come in un'altra fase del nostro percorso abbiamo anche introdotto il sistema terapeutico per ora per all'inizio era il terapeuta e il sistema familiare con gli individui abbiamo abbiamo passato molti anni a capire come la comunicazione tra gli esseri umani con le caratteristiche che i miei colleghi vi spiegheranno possa essere un punto fondamentale per capire e comprendere poi i comportamenti e l'evoluzione dei comportamenti stessi quando poi è apparsa in questo Angela ha pienamente ragione nel dire che è un continuo rimestare quando poi è apparsa quella che noi conosciamo come cibernetica di secondo ordine e cioè l'idea che l'osservazione di qualche cosa non è un atto che mette fuori l'osservatore dal processo quindi se io faccio una domanda osservo qualcosa per lo stesso fatto che sto osservando mi includo nel sistema quindi osservatore osservato il paziente che risponda alla mia domanda lo fa anche perché io ho posto questa domanda in una certa maniera perché lui o lei o loro reagisce e reagiscono al contesto un centro di psicoterapia uno studio professionale il luogo dove appaiono questi incontri e quindi in questo discorso viene a cadere l'idea di osservare le persone senza che questo processo osservativo sia neutrale e poi progressivamente in questa ottica relazionale vengono incluse o l'ottica relazionale viene attraversata da un insieme di altre questioni e teorie di origine differente cito per esempio la teoria dell'attaccamento cito ad esempio il fatto che proprio in relazione con l'osservatore osservato il terapeuta è parte di questa interazione ma è parte con la sua storia perciò si inizia ad avere un grande interesse per la persona terapeuta per quello che significa la sua scelta e le sue origini mentre prima era un terapeuta qualsiasi come dire non c'era bisogno di precisare da dove venisse già da molti anni ormai c'è questa esigenza di mettere l'accento sull'origine e sul fatto che essendo coinvolto intanto vengono alla luce le attenzioni per le emozioni e non solo per la comunicazione e non solo per il rumore ma le emozioni le emozioni dei soggetti e le emozioni vissuti emozionali degli dei terapeuti e all'interno di queste ultime l'idea che nella psicologia dinamica si chiama contro transfert e più o meno lo chiamiamo anche noi così uno degli autori che ho citato che si chiamava Moniel Caim parlava di risonanze qualche cosa che ha a che fare con l'effetto che ci fa ascoltare certe storie incontrare certe persone avere o no anche simpatia semplicemente simpatia o collegamento con con questo o quelle persone o antipatia chiaramente quindi il terapeuta con la sua storia individuale con la sua storia di individuo con la sua storia di individuo in un sistema che sono parte integrante della pratica della della clinica sistemica mi rimane da dire per ultimo che l'approccio sistemico ha avuto una grande diffusione nello studio e nell'intervento su sistemi che non sono umani o meglio che non sono famiglie scusatemi per esempio c'è un utilizzo dell'approccio sistemico per l'analisi delle organizzazioni dei gruppi di lavoro delle realtà di team di staff in questo senso l'approccio sistemico ha avuto una rilevanza importante insomma abbastanza crescente ecco quindi in questo senso diciamo con quest'ultima osservazione vorrei chiedervi se che tipo di domande mi volete fare insomma allora intanto c'è una una valanga di libri di articoli sull'approccio individuale sistemico poi vorrei approfittare per fare riferimento ad un ad un autore che che mi piace tantissimo è un francese si chiama Robert Nuberger Robert è un anzi troverete nel materiale che potete liberamente esplorare sul sul profilo youtube no un'intervista che ho fatto ho fatto un'intervista a molte persone c'è l'intervista di Morizio Coletti e Robert Nuberger è una persona che mi ha sempre ispirato tantissimo una sua un suo articolo antichissimo diceva differenze tra la terapia familiare e la terapia individuale quando scegliere una e quando scegliere un'altra Nuberger dice devono essere tre elementi prendiamo in conto il primo elemento è l'esistenza di un sintomo di una incapacità di un'impossibilità di un eccesso di un difetto che dir si voglia il secondo elemento è la sofferenza legata a questo questo sintomo quindi io ho dei pensieri ricorrenti di tipo fobico di qualsiasi genere non mi piace sto male voglio superarlo sofferenza il terzo elemento lui le chiama la legazione ma io essendo più tranchant parlerò chiamerò una richiesta di terapia di intervento allora Robert dice quando questi tre elementi sintomo sofferenza e bisogno desiderio di un trattamento sono presentati dalla stessa persona ci sono le basi per una terapia individuale quando invece e accade assai spesso appare un per esempio una madre un padre un familiare un fratello una sorella quello che sia dicendo io sto male ho una grande difficoltà perché mio figlio mia figlia mio padre mia madre mio marito eccetera eccetera ha un sintomo e quindi chiede un aiuto qui c'è una dispersione di questa triade per cui secondo Novergier occorre ampliare la convocazione ovviamente in questo in questo terreno l'intervento cioè l'individuo c'è sempre anche nelle terapie familiari e nelle terapie individuali c'è la famiglia noi abbiamo questo vezzo di quando iniziamo un intervento individuale per esempio di chiamare il partner la moglie il marito i genitori per una volta giusto per conoscere un po' il contesto nel quale poi dopo continuiamo con l'individuo quindi abbiamo questo tipo di idea dell'individuo che ha la stessa quindi di fatto per rispondere direttamente alla tua domanda certo che si può fare se una persona dice io ho questi pensieri molesti mi danno fastidio e voglio essere aiutato possiamo dare un'occhiata alla sua famiglia possiamo capire bene se casomai fossero dei dei sintomi che hanno a che fare con il suo sistema di riferimento ma continuiamo a lavorare con l'individuo attraverso teorie tecniche si parte dalla domanda si parte cioè dal moto che trascina una persona a chiedere aiuto a uno di noi e nell'analisi della richiesta o della domanda c'è una differenza di termini ma non è qui il caso di approfondirla si comincia a dire perché lei è qui che cosa si aspetta qual è il punto allora spesso esce fuori il sintomo perché perché poi evidentemente se una persona è sufficientemente equilibrata abbastanza soddisfatta eccetera eccetera non va ricercando le rogne come le terapie suono volentieri a meno credo che debba fare volentieri a meno e quindi è questo un po' il punto che non si parte dal sintomo si parte dalla persona dall'individuo e dal rapporto che ha dal fatto che ha già fatto un percorso pensa quante cose sono accadute prima che tu lo vedi per la prima volta un soggetto che si accorge che ha delle difficoltà individuali soggettive che dice che queste difficoltà non riesce a superare da solo o da sola che dice forse è il caso che mi rivolga a qualche d'uno che fa lo sforzo per cercarlo per trovarlo per prendere appuntamento insomma è tutta una una questione molto lunga l'approccio sistemico sta nel fatto che noi ci includiamo sempre oltre all'individuo anche il contesto circostante all'individuo le terapie con le famiglie in realtà non constringono adesso l'individuo a rimanere nella famiglia tutto il contrario Ilenia per esempio nel caso dei giovani adulti il nostro lavoro più grande è quello di permettere ai soggetti che si guano delle terapie con la famiglia di trovare l'autonomia dalla famiglia e la famiglia troverà l'autonomia da questo soggetto poi stiamo parlando di famiglia in realtà stiamo parlando di più individui quindi stiamo parlando di una cosa veramente molto complessa però sta di fatto che non ho trovato mai nella mia vita professionale nessun individuo costretto a andare in terapia familiare mentre avrebbe voluto andare in terapia individuale se così è la terapia individuale è una terapia individuale che può essere sistemica psicoanalitica cognitivo comportamentale qualsiasi approccio sia però su questo piano quello che a noi ci arriva è quando il soggetto ci arrivano dei soggetti che hanno dei conti aperti a volte dolorosi difficili a volte anche violenti con il sistema familiare e in quel caso allora noi apriamo la convocazione a tutta la famiglia nel caso dei bambini per esempio beh insomma in questa situazione i bambini richiamano direttamente la famiglia stessa perché il bambino non è in grado spesso di esprimere un suo bisogno desiderio di maturo perché maturo non è di essere seguito e perché i genitori proprio quando sono piccini hanno un insieme di connotazioni di relazioni tra di loro e con il bambino la bambina o i bambini che rende l'approccio familiare molto molto efficace ti faccio degli esempi la in realtà non si tratta di bambini ma si tratta di adolescenti tutti i casi di disturbi elementari psicogeni disturbi comportamenti alimentari di CA che sono l'anoressia la bulimia gli attacchi di fame eccetera tutto quello a che fare con il cibo è spesso a carico di soggetti che rapidissimamente ti accorgi che fanno del problema del cibo un tipo di comunicazione con il resto della famiglia e allora di questo ci occupiamo ma l'idea non è mai nella terapia familiare quello di continuare a dire il soggetto a qualsiasi età beh insomma a partire dalla tarda adolescenza in poi deve essere costretto men che mai nella terapia a stare in famiglia anzi è tutto il contrario moltissimi esempi per esempio questi disturbi di comportamento alimentare o per esempio i problemi legati ai consumi di sostanze o per esempio i problemi legati alle manifestazioni psicotiche o per esempio farei una una lista molto lunga in questo caso gli individui portatori di questi comportamenti sintomatici hanno alle spalle una dimensione di relazioni familiari che possono essere migliorate allo scopo di rendere possibile una autonomia un'indipendenza che è uno dei grandi punti autonomia e indipendenza da una parte e appartenenza dall'altra sono queste le due grandi forze che si fronteggiano ma che permetta l'autonomia e l'indipendenza di questo soggetto per conto suo per conto proprio se posso farti un esempio te lo faccio la prima cosa che mi è venuta in mente è di parlarti di una ragazza di 26 anni 27 anni cioè che ha una burrascosa storia di abusi quando era piccola a carico del padre che poi dopo è stato allontanato in qualche modo è figlia unica quando aveva 5 anni è stata abusata dal padre e si è poi dopo ha vissuto la sua infanzia la sua adolescenza e la sua fase del giovane adulto con la madre su questa base storica una base diciamo importante una base abbastanza drammatica lei ha con la madre un rapporto di forte dipendenza aggressiva perché ricerca sempre la madre per ogni cosa va cercando la madre la chiama ha un fidanzato da cui va spesso anche durante i weekend e anche in più e al tempo stesso cerca la madre le chiede consiglio si arrabbia se la madre non non dà il consiglio che lei pensa che sia quello giusto la madre è quella che mi chiama è abbastanza preoccupata per questo perché siamo arrivati a momenti di fortissima tensione quasi di violenza tra queste due possiamo dire due donne perché lei è una giovane donna la madre è una donna e lei è abbastanza come possiamo definirla la madre è abbastanza confusa perché si pone sempre il problema che sembra sia quello a cui tu fai riferimento ma io devo intervenire o no devo sostenere aiutare certo sostenere aiutare per carità mia figlia o no devo rispondere come lei risponde sempre con un atteggiamento che definirò affettuosamente da saputella cioè no perché bisogna bisogna capire che le persone grandi ce la fanno da soli eccetera eccetera sullo sfondo c'è questo drammatico passato che non è stato elaborato non è stato elaborato non è stato e che riguarda la figlia ma anche un po' la madre certo perché per esempio la figlia dice tu non hai avuto perché 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 ti sei sposata con questo tipo perché non mi hai protetta perché non hai capito subito che cosa succedeva loro vengono e vengono insieme vengono adesso vengono via virtuale ma insomma e vengono insieme e stiamo cercando di capire che cos'è che lega queste due persone per fare raggiungere a ciascuna di loro l'autonomia l'indipendenza all'interno del rapporto tra una madre e una figlia quindi insomma è sempre un rapporto affettivo però l'autonomia e l'indipendenza e quindi il mio obiettivo è che la figlia non sia così dipendente dalla madre per qualsiasi per il colore della macchina piuttosto che per piuttosto che per che cosa fare all'università piuttosto che qualsiasi altra cosa questo tipo di approccio funziona anche su un paziente che porta in terapia una dinamica familiare non più nel presente cioè per una persona che magari porta una dinamica genitoriale una dinamica genitore figlio con una figura che non esiste più nel presente di questa persona per esempio un genitore che è venuto a mancare o un genitore che si è sottratto diciamo dal sistema familiare per una qualsiasi ragione o un figlio altrettanto beh insomma evidentemente in questa situazione bisogna capire che cos'è che porta questo soggetto a chiedere un intervento un aiuto un sostegno una terapia no? e che cosa può avere a che fare questa questo accento sul passato quindi sul sul soggetto genitoriale che ha per esempio mancato in qualche tipo di area di comportamento per esempio questo succede quello che dici tu con i figli dei genitori separati allora a questo punto evidentemente l'ottica sistemica ti aiuta a ricostruire questa parte e a capire cos'è che nel presente ritorna degli eventi passati degli eventi antecedenti no? e in che maniera questo soggetto si si impiccia insomma perché poi ripeto deve avere qualche tipo di problema per 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 richiedere una terapia di pare e quindi in questo senso l'idea delle famiglie di origine è un'idea è una delle grandi incursioni che ci sono state ormai 30 anni fa no? le famiglie di origine sono delle storie molto a volte drammatiche altre volte appassionanti altre volte complicate altre volte ben presenti che fanno del 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 soggetto quello che ora è evidentemente perché storicamente noi da lì veniamo insomma veniamo dalle nostre famiglie dalle nostre famiglie gli dico anche perché chiaramente il presente le relazioni nel presente sono quelle invece che sono più attuali no? ci sono anche degli aspetti che riguardano i passati al plurale posso intervenire Maurizio? come no? Massimo puntata di questo percorso che stiamo facendo insieme sarò io un po' incontrare tutte queste belle persone da queste due ultime domande mi spingevano a dire qualche cosa che forse tra le tante cose che hai detto non so quanto sia risaltata quindi mi permetto di di fare un inciso allora la grande rivoluzione dell'approccio sistemico è di aver portato è di avere portato la famiglia in campo cioè l'approccio psicoanalitico da sempre ha raccontato le storie familiari non è che è una invenzione dell'approccio sistemico certo è però è la famiglia rappresentata questo fa l'approccio psicodinamico si interessa delle vicende familiari antiche però per come sono nella testa della persona quindi è la famiglia rappresentata quello che abbiamo fatto noi sistemici è di vederla questa famiglia invece nel senso che descrivere un un'alba o un tramonto può essere anche una bellissima descrizione ma è molto diverso che vederlo questo è la novità dell'approccio sistemico cioè è avere cercato di portare sotto sotto osservazione anche le dinamiche familiari nel qui ed ora che ovviamente incidono e influenzano sia nella costruzione del disagio della sofferenza ma anche la mantengono ma vedere l'interazione tra le persone scopre i mondi assolutamente diversi e ci permettono in certe situazioni di avere una incisività di avere una come dire una capacità di trasformazione che a volte le terapie individuali sulla persona hanno di meno o molto più lentamente il fatto il processo terapeutico è un processo di trasformazione di cambiamento e può succedere che in molte situazioni quelle di cui parlava Maurizio all'inizio cioè chi è che accede alla terapia no l'adulto può essere un adulto competente un adulto che ha una certa autonomia però ci sono tante situazioni in cui questo non è realistico ci sono tanti non solo i bambini no ma anche gli adolescenti molto disturbati tutte le situazioni psicotiche che richiedono un intervento familiare perché il soggetto che porta il disagio che porta il sintomo non è in grado di accedere a una domanda di cambiamento di terapia o lo è molto raramente non è un caso che la terapia familiare nasce come o terapia con i bambini o nelle psicosi l'approccio sistemico ha portato un mondo nuovo diciamo di vedere alle situazioni psicotiche quindi in questo senso come dire no l'individuo e il contesto in cui vive la sua famiglia sono strettamente legati ed è ed è vero che in qualche modo poi finisco se no tolgo troppo spazio a Maurizio quasi molti dei disturbi molte delle situazioni di disagio avvengono in un certo periodo della vita delle persone che noi chiamiamo la fase dello svincolo cioè nel giovane adulto adolescente giovane giovane adulto poi chiaramente ci sono anche i bambini che stanno male per carità però la gran parte della psicopatologia insorge in questa fase e come mai che insorge in questa fase perché è la fase in cui vengono in contrapposizione tra loro due bisogni fondamentali nella crescita della persona e cioè il bisogno di appartenenza ma anche il bisogno di differenziazione e di individuazione molte delle patologie molte delle crisi adolescenziali del giovane adulto più o meno gravi ruotano intorno a questa a questa contrapposizione che va gestita che va come dire deve trovare un suo equilibrio allora molto spesso pensare che il giovane adulto come dire ha bisogno di una terapia individuale perché si deve distaccare dalla famiglia per certi versi è vero per altri il cut off il taglio non è spesso la soluzione migliore perché questi due bisogni di appartenenza e di individuazione sono entrambi fondamentali e vanno rispettati entrambi ecco mi veniva in mente mentre tu dicevi che la terapia individuale psicoanalitica lavora ha sempre lavorato con le famiglie mi viene in mente di ricordare una lettura che certamente condividiamo con tanti che è la lettura di Sigmund Freud del caso del piccolo Hans il caso del piccolo Hans è un un caso ben curioso Sigmund Freud non ha mai visto il soggetto vedeva i genitori che facevano parte del gruppo del mercoledì che era un gruppo che si riuniva attorno a Freud a Vienna e soprattutto il padre raccontava addirittura i sogni del bambino raccontava i suoi comportamenti raccontava questo aspetto fobbico che cominciava a crescere Freud addirittura suggeriva al padre soprattutto ma anche alla madre le domande da porre domande terapeutiche da porre la storia vuole lo dice Freud non è che me lo invento io che a un certo punto il piccolo Hans è diventato a questo punto il grande Hans nel senso che dopo è cresciuto si è andato dal grande Freud dicendo lei mi ha rovinato la vita ma al di là di questa che è più un 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 aneddoto questo per dire che nel momento in cui questi due genitori sono preoccupati per il bambino metterli insieme oltre che ragionevole e sensate è anche molto utile anziché separarli e dire c'è il piccolo Hans e poi non c'è una parola sui genitori non c'è una parola nello scritto di Freud non c'è una parola su questo quindi questo è un esempio ma l'esempio dei bambini ma l'esempio come diceva Massimo degli adolescenti io ho fatto l'esempio dei disturbi dell'alimentazione eccetera 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 e questa idea di cogliere quella particolare fase del ciclo vitale che si chiama la fase del giovane adulto è un punto centrale perché ognuno di noi ha l'ha vissuto lo vivo l'ha vissuto insomma come una cosa molto complicata in cui diverse forze si mettono in campo i genitori che possono porre le norme dei divieti eccetera o non porli per nulla il figlio o la figlia o i figli che insomma in qualche modo cercano di fare la loro vita però non sono in grado non hanno gli strumenti non parlo di strumenti economici allora mettere insieme tutti questi attori ha una capacità e una forza incredibile di impatto che è generativa di cambiamenti questo è l'approccio sistemico essere generatori di cambiamenti di modificazioni non necessariamente di riletture di quello che accade nel passato ma soprattutto come far sì che i genitori sentano che il figlio o la figlia che se ne va non è è una cosa naturale e non è un pezzo di loro carne che si strappa e che quindi sentono tanto dolore e gli si aiuta a accompagnare il figlio la figlia o i figli verso un'indipendenza ma insieme con il figlio il quale a sua volta sente che deve andare via a fare la sua vita parla al maschile perché è più semplice per il momento del punto dell'appartenenza che è fortemente presente allora vi ringrazio ritorno vi saluto vi auguro buona serata e spero di vedervi il 5 ok grazie